Amici del piccole magazine, siamo ancora in compagnia delle tante amiche della nostra Raffaella Hilton che questa sera compie 36 anni, adesso siamo in compagnia di Flavia Mopareggi, un nome e un mito di Milano, di Ravenna e d'Italia. Ok, bisogna che mi correggi perché io con le lingue straniere... Mopareggi è un nome tradizionale, io sono nata in Japone e sono visto tutto in Brasile, quindi internazionale, sono intercontinentale. Beh, bellissimo, intanto complimenti per l'outfit perché sei davvero splendida questa sera. Grazie mille, è il compleanno della nostra amica Raffaella, bisogna mettere un bello abito, stare in forma, non mangiare poco. Per non fare la pancia, no? Sono d'accordo. Allora, questa sera è il compleanno della nostra amica Raffaella, due parole sulla vostra amicizia. Lei è il numero uno per me, mangiamo insieme, beviamo insieme, facciamo tutto insieme. Non c'è niente contro, fino ad oggi sono qui con lei alle sei di pomeriggio a sistemare tutto. E' una grande amica di Cori, sono qua oggi perché io voglio bene lei, se non aveva bene lei non stava qui. Che cosa le auguri per il prossimo anno? Che il prossimo anno fai un'altra festa. Assolutamente sì, sono d'accordo, grazie per essere stata con noi. Grazie mille, grazie mille.